Grande soddisfazione per la vittoria sicuramente, vittoria del gruppo, cercavamo questa vittoria da quattro partite, giocando bene non era ancora arrivata, oggi abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, abbiamo voluto attaccarli dall'inizio, attaccarli alti, non farli giocare, non farli ci siamo un po' abbassati, siamo un po' chiusi, però va bene così. La coabitazione con Libertazzi come va? Andata benissimo penso, benissimo, ci alternavamo prima punta e seconda punta, chi finiva l'azione l'altro si abbassava sul centrocampista basso loro, siamo aiutati dal primo minuto fino alla fine ecco, l'abbiamo provato in allenamento sicuramente in movimenti sia offensivi che difensivi, abbiamo messo in campo quello che abbiamo provato durante la settimana e penso che sia andata benissimo. Sì, a parte la fine, gli ultimi venti minuti, quarta d'ora, i crampi, perché diciamo nel secondo tempo abbiamo, sia io che Alberto abbiamo saltato molto per l'invila da fondo campo, abbiamo saltato molto, ci sta che arrivi alla fine con i crampi, però ripeto va bene così, estremati alla fine, ma abbiamo portato a casa tre punti. Senti, avvertivi un po' la necessità di fare questo gol, cioè si sente che questo siena non segna, questo siena non riesce a creare relazioni a tanto, in qualche modo ti chiamavano un incaudo, insomma. Sì, un po' essendo attaccante un po' diciamo tra virgolette pesa, no? Il fatto di non segnare, nelle prime quattro partite abbiamo fatto sempre bene, sicuramente in difesa, prendendo solo un gol e ci mancava il passaggio finale, gli ultimi venti di trenta metri, ecco. Poi, come ripeto, per l'attaccante non segnare diventa pesante poi la prima, la seconda, la terza, la quarta. Oggi ci siamo sbloccati, mi sono sbloccato, sono contentissimo e bisogna continuare così, lavorare come abbiamo fatto dal primo giorno di ritiro fino adesso, dare continuità nella vittoria, nei risultati. Grazie.